generale del Ministero, non emerge alcuna correlazione statistica tra il volume dell'iscrizione di reatti ed il decremento del numero dei detenuti. Il Governo è invece fortemente e concretamente impegnato in politiche legislative volte a rafforzare le condizioni di sicurezza dei cittadini, anche per le aggressioni al patrimonio. In quest'ottica è stato infatti presentato disegno di leggere, cante e modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, già approvata alla Camera dei Deputati e ora l'esame del Senato, che prevede appunto un ampliamento dei diritti della persona offesa e un ulteriore inaspiramento sanzionatorio dei diritti di furto e di rapina. La ringrazio. Facoltà di replicare il Deputato Filippo Busin. Ministro, io non sono affatto soddisfatto, mi sembra sia sottovalutato questo aspetto e le ricordo che c'è un altro indagato, sempre nella provincia di Vicenza, per cesso di legittima difesa e non è ancora stato prosciolto da questa accusa, ed è Graziano Stacchio. Graziano Stacchio è un eroe che ha difeso una commessa asseragliata nel suo negozio e attaccata da quattro rapinatori armati di Kalashnikov. Stacchio l'ha difesa a rischio della propria vita durante la sparatoria che ne è seguita. Lo stesso Stacchio si è reso protagonista di un gesto di grande generosità, donando a Mattielli una parte di quanto era stato lui stesso donato per il sostenimento delle spese processuali in virtù di quanto accaduto. Noi non ci rassegniamo a questa giustizia palesemente ingiusta, dove le vittime diventano i condannati e dove i ladri vengono assolti. Non ci rassegniamo questo mondo all'incontrario, continueremo la nostra battaglia perché questo non è il mondo che vogliamo, questa non è la giustizia che vogliamo. Grazie. La ringrazio collega Busin. Passiamo all'interrogazione numero 13 a 7 61 dei deputati Carfagna e Brunetta, concernenti iniziative di competenza anche di carattere rispettivo in relazione ad alcune tragiche vicende di stalking. La deputata Mara Carfagna ha facoltà di illustrare la sua interrogazione da un minuto. Prego. Grazie Presidente. Vede, un minuto è davvero poco per raccontare la tragedia di Enza Vino, una giovane donna di Terzigno che esattamente in provincia di Napoli, esattamente un mese fa veniva uccisa dal suo ex compagno, un ex compagno che lei stessa aveva denunciato per stalking, aggressioni, minacce, persecuzioni, che era stato incarcerato e che era stato poi scarcerato soltanto dieci giorni dopo perché il Tribunale del Riesame non lo aveva ritenuto una personalità così incontrollabile ed allarmante. Vede, signor Ministro, Enza è morta ed è morta proprio per mano di quella persona che il Tribunale del Riesame ha inteso scarcerare, quella persona che aveva perseguitato e minacciato Enza e che come aveva promesso alla fine l'ha uccisa. Ecco perché io le chiedo cosa intende fare, perché io credo che le donne non possano più morire.